Paisaggio simil Siberia, in realtà siamo al campo Druda qui a Pineto in compagnia del presidente del Pineto Silvio Brocco. Intanto buon anno caro presidente. Buon anno anche a voi. Dopo la festa dolori di testa si dice. No, no, no. Tutto bene. La caratteristica di questo campo mi ricorda molto quando ero ragazzo perché noi facevamo allenamento qui e quindi avevamo il mare sia in condizioni stupende che con queste condizioni qui. Quelli che dici tu, no? Dici che vengono correndo i Balcani. Ma quali Balcani? Questi sono Siberiani. Però che bello. Poi tra l'altro il campo è in splendide condizioni. Rifatto ex novo. Chissà da chi. Non lo sappiamo. Non lo diciamo. Il gioiello targato Pineto Calcio. Tra l'altro presidente, rivisitando il 2018, la squadra che ha fatto più punti. 63 il Pineto, uno in più del Giulianova. Giulianova però era in eccellenza. Era in eccellenza. La media punti è superiore a quella del Giulianova perché ha giocato meno partite. Però voglio dire, tutto questo certifica l'ottimo lavoro che state svolgendo. Segno di programmazione, di continuità. Sicuramente. Io intendo una società sportiva, simile ad un'azienda dove non ci sono solo i giocatori ma ci sono gli addetti, ci sono i terapisti, ci sono gli allenatori in prima, in secondo, i massaggiatori. Anche se l'azienda calcio, mi permetta, presidente, è un'azienda sui generis. Non è proprio la stessa cosa. È un'azienda aggregata ad altre aziende esistenti. Però ci divertiamo, ci piace e il piacere fa in modo che si fanno queste cose, altrimenti finirebbe lo sport in tutto il mondo. Assolutamente. Domenica si ricomincia con un derby. Pineto Francavilla, l'andata, esordio, non proprio entusiasmante, no? Eufemisticamente parlando. Sì, sì. Forse ci siamo presentati poco pronti, poco reattivi. Fu una partita a me dispiacque, insomma. Ma non per il risultato perché si può vincere, perdere, eccetera. Per l'atteggiamento. Per l'atteggiamento. Io avrei preferito più essere stati più competitivi, perdere comunque con l'onore delle armi, stringendo la mano agli avversari. Oggi non siamo più in quelle condizioni. La squadra si è riorganizzata, si è ben strutturata e speriamo di fare bene. È un piacere rivedere Paolo Rachini. Intanto buon anno Paolo. Auguri, anche a te Massimo. Riparte un nuovo campionato, forse eccessivo dire così, perché quello che è stato fatto rimane, no? Sì, quello che è stato fatto rimane, però hai detto bene tu, nel giorno di ritorno poi è tutta un'altra musica, quindi ripartiamo subito con questa partita difficile e quindi ci sarà da stare sul pezzo per portare a casa un risultato importante. Ovviamente sappiamo di affrontare una squadra in salute che nelle ultime 8-9 partite ha fatto molto bene, quindi sarà una partita super difficile. A conti fatti uno scontro diretto questo? Sì, perché la classifica dice questo, siamo a due punti dal Pineto, quindi per entrare nei play-off diciamo che bisogna superare questo ostacolo duro, però ripeto, noi abbiamo lavorato bene, stiamo bene, quindi speriamo sia una bella partita. Ci sono due assenze pesanti, abbiamo già detto di Farias, Farias, che dir si voglia, soprattutto l'assenza di Marianeschi. Sì, sì, però noi abbiamo un organico molto ampio. Una scusa a Mauro. No, no, manca Francesco Marianeschi, ci dispiace a tutti che manca, però prima mancava anche Stefano Mandì, altre volte è mancato Tomassini, abbiamo avuto anche delle defaianze con dei giocatori importanti, ma chi li ha sostituiti è stato proprio sempre all'altezza della situazione. Effettivamente a dicembre il Pineto si è ulteriormente rinforzato, però anche voi non siete rimasti a guardare la finestra di mercato così passivi, anzi? Ma noi abbiamo fatto delle operazioni in uscita, 5 o 6, abbiamo preso dei giocatori importanti come Dos Santos, Montagnoli e Mancini, che sono giocatori che secondo me ci possono dare una grossa mano. Il Pineto ovviamente ha preso Cruz, ha preso Fratangelo, quindi ha fatto operazioni importanti per centrare l'obiettivo dei play-off, quindi sicuramente io penso che il Pineto, l'ho detto anche all'inizio quando le cose non andavano, che era una delle squadre più attrezzate per comunque arrivare lì davanti. Incrocerete, incrocerai di nuovo Cruz, a proposito ti è dispiaciuto? Molto, molto perché oltre ad essere un ottimo giocatore, è un ragazzo eccezionale, però anche quando è andato via ci siamo sentiti parecchie volte, è un ragazzo che stimo, al di là di quello che poi è come calciatore, che è un giocatore che in queste categorie fa la differenza. Tegola Palumbo, circa 50 giorni di stop, sarà questa un'assenza pesantissima? Sì, è un'assenza pesante, è un giocatore per noi importante, però ripeto, io ho sempre parlato bene di tutti, del gruppo, perché abbiamo altre soluzioni. Tenendo presenti le caratteristiche di questo giocatore, non solo un giocatore importante, il capitano della squadra, potresti cambiare qualcosa nel sistema di gioco o no? Sì, ho provato alcune cose in settimana, può essere che si torni anche a fare delle cose che abbiamo fatto all'inizio, però sono ancora da valutare determinate cose. A me piace giocare con il 4-3, con il 4-2-3-1, adesso vediamo con l'assenza di Palumbo se insistere con il 2-3-1 oppure cambiare. Sarà sulla carta un bel derby perché il Francavilla è lì a due punti? No, ma noi ci teniamo tantissimo, a parte l'amicizia con Gilberto Galdeloro, che è un grande amico, con il mister Loro Rachini, prezzo moltissimo. Non dimentico mai una trasmissione televisiva che qualcuno gli chiese, ma è il Pineto o è giù? No, è il Pineto disse, ma solo ancora qualche settimana e poi la rivedrete su, quindi lui sa bene come siamo strutturati, come siamo fatti, quindi sarà sicuramente una partita tra due società molto amiche, con ragazzi che si stimano moltissimo e quindi poi il risultato del campo ben venga a qualsiasi risultato. A proposito, giochi a casa? Sì, gioco in casa e quindi ci saranno molti amici che verranno a vedere, quindi è una partita a cui tengo tantissimo, sono tante partite che non perdiamo e vogliamo continuare su questa strada. Hai fatto la scommessa con qualcuno dei dirigenti del Pineto, non so, Roberto Giammarino per questa partita? No, no, con Roberto mi sono sentito, ovviamente lui vuole vendicare quello che è stato fatto nella partita andata, però noi ci andiamo a giocare la partita come abbiamo fatto sempre e poi che vinca il migliore. Voi avete cominciato bene, 3-1, Vittoria Netta, però quello era un altro Pineto. Quello era un altro Pineto e adesso sì, poi in casa loro stanno facendo molto bene. Una squadra forte in tutti i reparti, quindi ci vuole il miglior Francavilla per portare a casa i punti. Rosa, assolutamente strutturata, competitiva per? Adesso lo possiamo dire. Competitiva per scalare le prime posizioni. Non vogliamo essere di intralcio al Cesena, però io sarei felicissimo se riuscissimo a farci valere anche in posizione terza, seconda, perché no? Primo posto? No, primo posto no, lasciamolo al Cesena. È giusto così.